Solana, BNB, Matic, Ethereum, analisi ciclica live e tutto quello che sta succedendo in questo momento. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video dopo il super pump di Solana dei giorni scorsi del mese quasi il 100% di rialzo. In pratica da qui a qui ragazzi 160% da settembre, mentre per il mese di ottobre più o meno siamo al 117% sui massimi, adesso sta un po' ritracciando 80%. Che cosa è successo a Solana e cosa è cambiato, cosa sta cambiando e vediamo anche qualcuna delle sue, tra virgolette, rivali, Matic e quindi Polygon ed Ethereum. Ovviamente è ritornata un po' l'idea che Solana possa competere con Ethereum in questi giorni eccetera. E poi guardiamo anche Binance Coin, un po' addormentata per tutte le vicissitudini che stanno riguardando Binance. Andiamo a fare analisi ciclica e live in diretta insieme a voi, andiamo a comprendere che cosa ci dice l'analisi ciclica, dove siamo arrivati con queste criptovalute e soprattutto quali sono gli scenari futuri. Perché in particolar modo quello di Solana è molto accattivante. Abbiamo fatto lo scenario di Solana in tutto questo tempo, sapete bene che io non l'ho tradata per via del fatto che aveva due ipotesi differenti e quindi non mi piace fare trading su delle cripto che hanno ipotesi divergenti. Diciamo così, preferisco stare più tranquillo ma ho tradato ovviamente Bitcoin e altre cripto. Però Solana ha fatto il bottom, tra le altre cose facendo una figura di analisi tecnica molto comune, molto famosa e molto profittevole per le cripto. Iniziamo dall'analisi ciclica in diretta di Binance Coin, poi faremo Matic, Ethereum e poi Solana, come si dice, dulcis in fondo. Partiamo quindi dalla coin di Binance ragazzi, che era alle prese con un movimento abbastanza pronunciato negli ultimi mesi, da aprile circa di natura ribassista. Intanto, da un punto di vista, faccio prima l'analisi tecnica, poi subito ciclica e immediatamente, da un punto di vista di analisi tecnica abbiamo avuto un ribasso del 42% dai massimi di aprile, mentre da questo top che era un pochettino più alto di novembre, un po' di più. Però in realtà questo top andrebbe non utilizzato perché è un asciato, quindi se noi andiamo a verificare infatti la questione delle close, io preferisco fare così anche su criptovalute un po' più volatili come questa, insomma in generale non volatilissima, insomma però comunque sempre una cripto 40% di ribasso. Quindi questa struttura ribassista è probabilmente una struttura che va a configurarsi come una chiusura ciclica importante, una chiusura che probabilmente si sposta con la questione del ciclo annuale. Ora, passiamo all'analisi appunto di natura ciclica ragazzi e vediamo un po' come è strutturata la questione. Allora, questo ciclo annuale di Binance Coin, BNB, è iniziato il 13 giugno del 2022 e teoricamente ha sviluppato, e si vedono abbastanza bene in questo caso, delle strutture fatte più o meno da 100 giorni, 85, 84, 98, questo qui, l'ultima un po' più lunghetta, da 119. Quindi sostanzialmente è come se avesse fatto dei trimestrali per strutturare un po' questa fase e andare a chiudere il ciclo annuale. La durata totale attuale del ciclo che stiamo verificando, stiamo vedendo su Binance, è di circa 483 giorni. Se utilizziamo la shadow ribassista, qui abbiamo 202, ma precedentemente qui, vedete, c'è stato molto vicino al minimo di 202 dollari. Qui avevamo 202 dollari, qui per esempio 203, 204, quindi siamo veramente nelle minuzie. Se invece andiamo a considerare la close, la close più bassa l'ha fatta il 18 settembre a 208 dollari, mentre in questa giornata del 9 ottobre ha fatto 209 dollari. Quindi può essere, diciamo, che ci sia una struttura ciclica annuale che si stia andando a chiudere o in questo punto, in questo punto cambia un po' poco per un annuale, so, sono 20 giorni ragazzi, però non è che cambia granché. Anche perché la struttura di Binance Coin attualmente ha rimbalzato, ma non ha dato nessun segnale di inizio realistico di una nuova struttura ciclica importante. Abbiamo avuto un rialzo da questa zona dei minimi fino a un massimo del 17%, ora si sta attestando al 12%. Attenzione però perché alcune informazioni sono abbastanza importanti, secondo me. Allora queste sono, anzi vi metto anche le due medie settimanali perché stiamo guardando un time frame settimanale. Ok, allora ho messo le medie mobili ragazzi settimanali adatte, diciamo, al grafico settimanale, poi guardiamo anche le 11 e le 21 sul grafico daily. Allora guardate come in pratica questo rimbalzo, è vero, c'è stato, però è un rimbalzo attualmente ancora di poco conto perché non possiamo comprendere se da un rimbalzino del genere sia iniziato un nuovo ciclo annuale, vedremo la stessa cosa anche su Matic tra poco, perché semplicemente è troppo basso questo tipo di rialzo. La struttura ciclica ci dà un'informazione e ci dice che a livello temporale i minimi fatti tra settembre e ottobre sono sufficienti ad avere una chiusura di un ciclo annuale classico. Però il rimbalzo in questione è troppo esile, troppo blando. Ora si può tranquillamente magari tentare una posizione di buy nel tentativo appunto che, nell'ipotesi che qui sia iniziato un nuovo annuale ed eventualmente al breakout dei 200 dollari andare in stop loss. Questa può essere tranquillamente fatta, ovviamente c'è uno stop del 15%, ragazzi, quindi sono position un po' per holder e meno per trader. Però bisogna anche ricordarsi che da un punto di vista tecnico ancora non abbiamo avuto nessun tipo di segnale importante. Solo che, come sempre, i segnali importanti di conferma di inizio di una nuova struttura da qui si avranno solo al superamento di questa zona qui, che è troppo alta. E quindi anche da un punto di vista operativo andare ad attendere una conferma significherebbe aspettare un altro 30% di app. Quindi teoricamente poco conveniente da un punto di vista pratico. Quindi ricordate sempre un'analisi, un discorso, poi la parte operativa e trading. Dovete essere formati per fare questa cosa e essere in grado di gestire queste operazioni. Poi ovviamente ci sono tanti, tanti, tanti possibilità, tanti profitti che si possono andare a realizzare ma ci vuole un minimo di addestramento. Se andiamo a guardare anche la parte della struttura daily ci rendiamo conto che qui è un po' diversa la questione. Tant'è vero che adesso io vi metto le altre due medie e le altre due medie indicano che a livello daily qui è iniziato sicuramente un nuovo ciclo di natura mensile e questo lo sappiamo però probabilmente è iniziato anche un nuovo trimestrale quindi un nuovo ciclo da più o meno 80-90 giorni circa. Quindi questo trimestrale nuovo se effettivamente sarà rialzista e quindi che significa che avrà un minimo di chiusura superiore a quello di partenza allora indicherà che su questo punto è iniziato il nuovo annuale di Binance anche in questo caso e quindi la possibilità che magari continui una fase di risalita nei prossimi mesi può essere vantaggiosa. Attenzione che anche in questo contesto in ogni caso la possibilità di tradare questo ciclo eventuale trimestrale in long perché è possibile un nuovo ciclo annuale c'è comunque anche sulle fasi di Deep e non è sbagliato in questo caso perché ci sono delle informazioni che ci lasciano presagire che una probabilità più alta c'è rispetto all'inizio di una nuova fase ciclica annuale quindi un eventuale buy in questo contesto anche in Deep sarebbe corretto ovviamente sempre con lo stop loss posizionato sotto i minimi quindi se rompe i minimi si va in stop loss però non è male diciamo questa zona soprattutto a chiusura di questo ciclo mensile che potrebbe andare a chiudere appunto in questa fase a momenti potrebbe essere una buy in Deep interessante per un eventuale poi escursus fatto in questo modo e soprattutto un riposizionamento per il nuovo ciclo annuale su Binance Coin quindi questa è in questo momento interessante come cripto vi ripeto fermo restando che essendo troppo presto ma noi anticipiamo per avere vantaggio in termini di trading dobbiamo poi utilizzare le tecniche di trading compreso lo stop loss e lo ribadisco anche se fate i bad di Deep in questo contesto lo stop loss va sempre utilizzato se non avete formazione l'ambito trading ragazzi dovete formarvi prima di fare queste cose ok? analisi su Matic ragazzi siccome BNB Matic ha la sua stessa struttura in pratica veramente molto simile da un punto di vista di analisi tecnica c'è un declino importante che è avvenuto forse anche più importante di quello delle altre cripto anche Matic è sulla media mobile a 26 periodi quella del semestrale circa e si è fermato vi faccio vedere il ribasso che ha avuto è del 69% dai massimi di febbraio 70% di ribasso quindi importante un ribasso importante per questo progetto molto interessante da un punto di vista tecnico qui erano fasi di possibile chiusura del ciclo annuale probabilmente qui sta tentando la chiusura del ciclo annuale intorno a settembre e dovrebbe essere iniziato il nuovo ciclo trimestrale come per BNB valgono esattamente le stesse identiche conclusioni le stesse idee che abbiamo avuto su BNB quindi anche nel caso di Matic un ingresso long in questo contesto per la probabilità che sia iniziato un nuovo annuale è corretto fermo restando lo stop loss ed essendo Matic stata più volatile di BNB dovete ricordarvi che ad esempio da qui ragazzi c'è uno stop loss di oltre il 30% perché poi dovete lasciare lo spazio quindi solo per azioni di holding in questo caso oppure trading ok ma il trading deve essere gestito con time frame più breve in questo contesto proprio per l'estrema volatilità in questo caso dai minimi che ha creato Polygon Matic poi da qui può essere iniziato effettivamente un nuovo ciclo anche su Matic assolutamente sì e qui può essere valutato anche questo segnale attenzione anche alcuni livelli di resistenza che possono essere interessati intanto vi faccio vedere anche le due medie mobili quelle per il giornaliero però il time frame giornaliero come anche queste si sono state create si sono create insomma rialziste e soprattutto anche in questo contesto Matic sta indicando che sul minimo dell'11 di febbraio dovrebbe essere iniziato un nuovo trimestrale tant'è vero che ha fatto un primo mensile in barra di congestione ed il secondo mensile che lo sta strutturando sta diventando un mensile rialzista quindi ha più o meno confermato una specie di ciclo trimestrale che a sua volta confermerebbe il nuovo annuale quindi l'ipotesi di entrare long in holding su queste cripto entrambe è valida restano validi tutti i disclaimer giganteschi che vi sto dicendo stop loss sotto i minimi gestione della posizione position sizing non sono operazioni per chi non ha formazione trading e investimenti solo se avete formazione ok scusate ragazzi ma è d'obbligo ripeterlo queste cose perché sapete bene come funziona passiamo all'Ethereum prima di andare a vedere Solana la regina delle cripto ha fatto due bei pump nelle scorse due settimane più 6 più 7% ancora molto debole rispetto a Bitcoin e soprattutto non ci dà ancora informazione se effettivamente questa è la sua natura di struttura del ciclo annuale oppure abbiamo ancora da vedere una fase ribassista o di barra di congestione che potrebbe portarci alla fine dell'anno addirittura fino a febbraio quindi i primi mesi dell'anno 2024 attenzione perché secondo me in questo contesto è bene andare a ragionare su Ethereum sulla time frame di natura daily perché possiamo andare a creare una view differente ragazzi allora Ethereum può aver chiuso l'annuale sì assolutamente in questo punto anche lui intorno a ottobre con questa fase ribassista 481 giorni circa dai minimi di giugno oppure può avere una struttura che continua ancora un po' fino addirittura vedete a febbraio 2024 se consideriamo questa fase come una fase di anomalia ciclica che si definisce lingua di buyer corta in questo contesto allora una questione del genere non può essere eliminata almeno che questo rialzo non vada sopra i massimi dell'anno 2023 di ETH a quel punto sarebbe troppo tardi per assumere posizioni con un rischio controllato quindi come vedete su Ethereum non c'è soluzione bisogna agire da un punto di vista tecnico e agire in maniera probabilistica quindi non si può avere una strada unica ma avremo una probabilità che sia o l'una o l'altra una questione tecnica però c'è su questo minimo è iniziato sicuramente un nuovo ciclo mensile se dovesse essere vedete un nuovo trimestrale potrebbe scadere intorno alla metà di gennaio quindi in effetti questo trimestrale potrebbe essere un trimestrale che va ad creare una unione quindi un raccordo tra due strutture cicliche e quindi potrebbe in effetti essere anche debole e va a sistemare entrambe queste view cioè va in pratica a indicarci che o qui o qui in pratica con questa struttura noi andiamo a chiudere i giochi e poi si riparte dopo magari qui fa una laterale e quindi un ciclo neutrale non troppo rialzista e questo potrebbe essere accettabile anche per la regina delle cripto fermo restando che Ethereum è meglio posizionata sia di BNB che di Matic però ancora stenta ad avere questo trend importante attenzione però qual è a livello operativo la questione su ETH ETH qui ragazzi sta facendo questa fase ribassista di qualche giorno perché ha toccato la trend line discendente che univa i massimi di questo movimento laterale ribassista che abbiamo avuto da aprile del 2023 ma attenzione perché qui a livello ciclico se effettivamente dovesse essere poi iniziato un nuovo ciclo annuale e non fa un ciclo di raccordo ma semplicemente inizia un nuovo ciclo annuale e se ne va per la sua strada quella trend line ha un'alta probabilità di venire bucata al rialzo detto questo significa che questa fase ribassista di questi giorni potrebbe essere una fase di respiro per poi tentare la nuova fase di break quindi anche su eth secondo me l'unica posizione possibile in questo momento è una buy the dip all'interno di questa area quindi in questa zona dove in pratica si sta posizionando dalla giornata di oggi che va dal 1770 a circa 1720 dollari in questa zona qui potrebbe essere una buy the dip all'interno quindi del candelone in questa fase per morestando che anche qui sotto questi minimi c'è lo stop e che lo stop nel caso di eth è molto più pronunciato quindi vedete da qui a qui abbiamo un non è più pronunciato di matic non lo è ragazzi ok abbiamo comunque un 12% dovete sempre tenerne tenerlo in considerazione allora questa zona in questa parte qui potrebbe essere considerato un buy the dip da questi prezzi fino a quindi 1770 fino a 1720 più o meno in questi giorni se per esempio va a concludere un ciclo di natura mensile a breve quella potrebbe essere un'ottima occasione perché siamo a 22 giorni anche se fa un mensile intorno ai 30 35 quindi fino a metà del mese di novembre fino al 10 di novembre potrebbe essere una buona occasione per riposizionarsi long nell'ipotesi che sia effettivamente iniziato un nuovo annuale perché si è iniziato un nuovo annuale poi riprende un trend rialzista se invece siamo ancora nel precedente annuale o deve ancora raccordare i due annuali come vi ho detto prima è difficile che avrà un trend pronunciato ma il tentativo da trader e da investitori si può assolutamente fare e consono il rischio controllato direi così non è elevatissimo e soprattutto le ipotesi tecniche lo studio ci dà la possibilità di avere questa fase ovviamente vi ripeto tutto considerato il stop che va assolutamente considerato su tutte queste operazioni che stiamo andando a vedere passiamo alla fine alla regina del mese sicuramente che è Solana Solana ha fatto un super pump gigantesco dal breakout di questa zona di resistenza zona di resistenza che avevamo monitorato da tutto l'inizio dell'anno ragazzi io non ho utilizzato Solana per il trading perché semplicemente vi dicevo ci sono altre cripto quindi io a volte poi decido di agire dove le analisi sono più chiare più nitide tanto un profitto vale l'altro quindi la differenza ok c'è assolutamente in termini magari di qualche punto percentuale per questo mese ma per esempio rispetto all'anno 2023 bitcoin ha performato comunque molto bene io che ragiono molto più su bitcoin per esempio qui siamo a ampi livelli perché qui c'era stato il maxi crash di dicembre ma riposizionandoci in fase normale insomma siamo intorno al 200% in questa fase e va benissimo sicuramente meglio di bitcoin ma bitcoin ha fatto sempre un 100% e soprattutto molto più stabile oltre al concetto di quello che c'è dietro però questa cripto da un punto di vista di trading era interessante per il cammellone che stava andando a disegnare ma ha stupito da un punto di vista di analisi ciclica ora vi dico anche perché tant'è vero che io questo ciclo trimestrale così forte non me lo sarei mai aspettato mi aspettavo un ciclo trimestrale quindi nuovo da qui che potesse avere magari un rialzo in questa zona e fare una cosa del genere ma che cosa ha fatto in pratica ha fatto un eccesso come sempre avviene con le cripto avendo breccato questa zona di resistenza che erano intorno ai 28 dollari circa è andato a sbattere su questa fase su quest'altro livello di resistenza 48 dollari ora se voi rivedete i miei video precedenti dove appunto vi dicevo che non era molto convinto di questa fase di Solana infatti non l'ho utilizzata però ritrovate lo stesso livello di resistenza già segnato perché quello era il successivo livello di resistenza tutta questa area adesso diventa un'area di congestione per Solana cioè la nuova barra di congestione quella che era stata precedentemente qui attenzione perché la continuazione di questo movimento rialzista ancora più in là è un po' complesso questo è il discorso non è impossibile però è un po' complesso da un punto di vista di probabilità ci sono delle probabilità che ci lasciano indicare per esempio ieri ho pubblicato in Academy una analisi piccolina su Solana indicando che chi era long poteva tentare già di uscire in take profit utilizzando dei take profit piccoli magari per coprire i rischi e lasciare in trailing stop poi la posizione perché se la posizione sarebbe andata oltre questo livello di resistenza saliva tantissimo ma se tornava indietro il rischio era molto alto che ritornasse indietro era meglio utilizzare un trailing stop per portare a casa i profitti e poi riposizionarsi successivamente in effetti già nella giornata di ieri ha iniziato a scendere un po' Solana ha perso qualche punto percentuale ora rialzo fermo eccetera no non è così ragazzi è semplicemente che ha incontrato un livello di resistenza che è il più importante perché è il più importante perché sopra questo livello di resistenza non c'è nulla che trattenga Solana quindi dovesse breccare questa area di resistenza la successiva è addirittura intorno a 77 quindi può fare una cosa del genere addirittura ragazzi quindi non dico raddoppiare ma quasi quindi capite bene la questione questo livello di resistenza è molto importante e sarà molto complesso per Solana andarlo a battere però potrebbe andare a provarci attenzione perché l'analisi tecnica ci dice questo ma la ciclica ci dice che siamo a in questo momento vicini alla scadenza del ciclo trimestrale cicli trimestrali che attualmente è a 53 giorni dovrebbe arrivare intorno a 80 90 giorni teoricamente fino alla fine del mese di novembre ora non è che la struttura ciclica ci impone che il mercato debba crashare perché non è così che vanno interpretati i cicli potrebbe in effetti continuare a fare per esempio la sua struttura questo sembra proprio un ternario quindi fare una cosa del genere breccare questo livello e poi chiudere il ciclo così quindi non è che la presenza di una struttura ciclica in chiusura ci indica che qui a forza il titolo deve scendere ci dice che però entriamo nella sfera dove movimenti un po' ribassisti potrebbero subire maggiore intensità questo significa e questa cosa deve lasciarci un po' pensare soprattutto se avete già tradato questa cripto che potrebbe essere magari il caso di utilizzare appunto take profit a protezione del rischio come ho detto in academy proprio ieri e trailing stop per seguire questa questo trend il trend non è variato quindi è assolutamente rialzista perciò ok take profit per coprire il rischio ma attenzione che qui non c'è nessuna variazione di trend c'è da dire che una variazione di trend di solana in questo momento dovrebbe presupporre il break almeno delle due medie e poi il ritorno sotto il livello di 31 quindi capite bene anche poi cosa significa cioè significa perdere veramente tanto profitto di quello che ha fatto in questo momento quindi circa 26% perciò suggerirei se siete dei trader di utilizzare dei time frame più corti per la gestione della posizione di solana neanche il daily e però dovete essere un po' sulle montagne russe dovete fare un po' dentro un po' fuori se siete holder di solana vi direi di attendere questa fase ben ricordandovi queste parole che vi sto dicendo se siamo vicini a questa scadenza ciclica può essere che la cripto vada un po' a rallentare intanto ha dato dopo il superamento di queste zone ha dato la conferma che l'annuale nuovo di solana da solo è iniziato il dicembre 2022 e teoricamente va in close intorno a marzo ma probabilmente si andrà a sincronizzare anche con quello di bitcoin secondo me questo significa anche che le tre strutture cicliche sta andando a creare magari potrebbero avere questa fase oppure se lo volete vedere in struttura binaria dovrebbe fare una cosa del genere quindi nulla da diciamo evidenziare se non che questa è una resistenza iper importante qui abbiamo una scadenza del trimestrale qui abbiamo l'annuale ma c'è tanto tanto tempo quindi il tempo stringe su solana per fasi di bullo così però non è ancora detta l'ultima parola sicuramente ha disegnato un ciclo annuale che è rialzista perché fa i massimi nella sua seconda parte quindi le ha già fatti qui potrebbe anche tranquillamente fare questo e poi andare a chiudere l'annuale fatto così posizioni long da assumere su solana o meno io guarderei esclusivamente la chiusura del trimestrale quindi prima di questo ciclo trimestrale in chiusura io non farò nulla ma come vi dicevo prima sono estremamente prudenziale io ragazzi come trader quindi dovete ragionare un po' anche secondo la mia testa e quelli che sono i miei capitali insomma tante altre cose perciò quel è soggettivo e personale io preferisco altri cripto che hanno che ho inquadrato meglio da un punto di vista ciclico diciamo così ciò non toglie che se siete holder potete continuare a seguire questa cosa sulla chiusura di questo trimestrale un pensierino lo potrei anche fare ma dipende come va questo trimestrale se è troppo profondo assolutamente no ma se chiude molto leggero può essere che un pensierino lo faccio perché il breakout di questo livello potrebbe portarmi a un balzo notevole di questa cripto va bene allora un super video di analisi live in tempo reale l'ho fatto insieme a voi cosa ne pensate scrivetemi nei commenti se vi piacciono questi video ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lasciatemi i polliccioni perché sono video veramente tecnici e molto istruttivi cosa ne pensate buon weekend a tutti noi ci vediamo nel prossimo video ciao